281, più principi per tutti, terza! Ok, un attimo, azione! Un piccolo tocco personale! Molla immediatamente col martello! Bella così! Supermichael è un supereroe, è il supereroe, sono io in verità! Prince è un personaggio molto estroso, molto, come dire, esploso nel suo avvigliamento, nel suo essere sempre glamour Il vero amore di Prince è super valido, ma non so se è proprio amore Supermichael non c'è tanta speranza con Prince Il mio personaggio è il professor Caspar, dà tutte le varie indicazioni a Supermichael per compiere le sue azioni per salvare il mondo La mia frase di presentazione di inizio è che c'è un problema nel mondo Supermichael, c'è un problema nel mondo Ancora per poco, mi dica un po' Questo problema non sarà mai risolto da Supermichael, per seguire, sarà sempre qualcun altro che lo risolga il suo posto Abbiamo scelto Supermichael dal leader del supereroe che abbiamo visto in lui Sì, ma mi sono fatto fare un book, sai, come mi supererò e deve sempre essere al passo con i tempi, no? Ci ha colpito tantissimo la plasticità che ha avuto molto, la capacità espressiva e la fantasia che ha avuto durante il provino. Princey doveva essere un po' sopra le righe, un po' appunto principessa e avere quel tono molto femminile, elegante, è stata la persona giusta. Sono 12 episodi, gli action episodi molto viralizzati o di brevi, circa 4 minuti, soprattutto con un impianto di engagement social per cui si cercherà di far parlare i personaggi attraverso Facebook, Instagram, YouTube, eccetera.